Cari amiche e cari amici di Barba Sofia, ormai penso l'abbiate capito perché i governi negli ultimi direi decenni, ma soprattutto voi questo governo, deve continuare a fare propaganda sul tema dei migranti, dell'invasione degli stranieri, sul tema della sicurezza, ordine pubblico, deve portare avanti battaglie ideologiche sui diritti civili o meglio sul negare i diritti civili, deve mettere il focus costante sul problema della sicurezza, dunque deve aumentare le pene contro chi manifesta, lo sta capendo perché bisogna parlare di immigrazione, bisogna parlare dei campi in cui inviare i migranti in Albania, perché se i governi non parlassero di queste questioni, non ci parlassero di cronaca nera, non ci parlassero appunto di nemici alle porte, dovrebbero fare più che mai i conti con la loro incapacità di governare l'Italia dando a questo paese, un nostro sociale di questo nome, dando a questo paese una prospettiva di crista economica, ma anche di una crista giusta, non potrebbero appunto più far finta di niente rispetto alla linea di impienze sulla questione salariale, che è ormai uno scandalo a livello europeo e la manovra economica di questi giorni, se la leggete, è imbarazzante, è inquietante, i soldi previsti per l'aumento dello salario dei medici e degli infermieri sono ampiamente insufficienti, per il 2025 si parla di un aumento di 7-8 euro per gli infermieri, dovrebbero poi diventare, dovrebbero 80 nel 2026, risorse per la scuola pochissime, risorse per la scuola pochissime, per non parlare dei tagli addirittura di insegnanti con la scusa della diminuzione degli studenti a causa della crisi di natalità, allora si tagliano direttamente gli insegnanti anziché eventualmente ridurre il numero di allievi per classe e potenziare dunque veramente i processi di apprendimento, niente, niente di tutto ciò, non c'è, non ci sono fondi di sufficienza per i rinnovi contrattuali di qualunque settore pubblico, non c'è, perché? Perché il piatto piange, perché non si vogliono trovare soluzioni tipo patrimoniale, non si vogliono aumentare le tasse, ma succede che così si tagliano i servizi e tagliando i servizi saranno danneggiati coloro che vivono grazie ai servizi, che non hanno un reddito delle entrate tali per poterseli pagare i servizi in modo particolare legati alla sanità e all'istruzione. È una manovra poverissima, non c'è un piano industriale, non c'è un piano energetico, non c'è un piano di infrastrutture, se non questa demagogia costante di Salvini, non c'è un piano salariale di rilancio dei salari, cioè non c'è un piano per il potere d'acquisto, ma ripeto, questo governo come i governi precedenti fanno pochissimo in ambito poi di stato sociale, di economia, perché non sono capaci, uno potrebbe dire, perché non vogliono, perché non vogliono, questi sono governi ormai che tutelano i grandi patrimoni, le grandi ricchezze, l'evasione fiscale, non c'è nessuna, ma provvedimento contro l'evasione fiscale e tartassano le piccole preteive, tartassano i piccoli commercianti e soprattutto chiaramente pensionati e lavoratori dipendenti. Questo sta avvenendo, questo è evidente e lo scandalo degli scandali che è ergognoso è l'aumento delle pensioni minime, le pensioni minime vengono parte da 614 euro al mese a 617, 3 euro al mese in più, 10 centesimi al giorno, ma è la vergogna, è l'umiliazione, è proprio un mondo al contrario questo, sì, dove si continuano a tassare, a tassare il ceto medio e il ceto proletario, dove si continua a tagliare il servizio, il servizio c'è ai tutti, ormai la sanità in questo paese sta implodendo, la scuola non è adeguata ai tempi, non riesce a rinnovarsi, non si fa questo grande new deal per quanto riguarda le edilizia scolastica, è chiaro, sono due cose fondamentali, non si fa nulla per le infrastrutture ordinari, la vita dei pendolari è un inferno in questo paese, è un inferno in questo paese, ma parlare di investimenti economici, di finanziaria equa, ripeto, una patrimoniale, una lotta all'evasione fiscale o a trovare gli evasori totali, cioè quelli che non hanno mai di fatto pagato le tasse, niente, tassare i grandi patrimoni, niente, riconversione energetica, niente, riduzione del tasso del costo dell'energia, niente, è questo così, è tutto così, questa è la situazione e i tre euro sono sintomatiche delle persone che hanno di questo schifo, perché le persone che hanno lavorato una vita o che hanno comunque una pensione minima, che hanno una pensione dunque base, quella pensione di sopravvivenza, ebbene, si trovano tre euro in più al mese, ma queste persone probabilmente non sono neanche quelle di fronte a protestare, perché magari vanno altre entrate, non lo so, ci sarà il lavoro in nero sicuramente, ma tendenzialmente perché vengono le loro attenzioni costantemente distolte da altri macro problemi, molti dei quali ideologici, ripeto, tutto il tema legato alla sicurezza, tema reale, ma va a occupare uno spazio sovradimensionato, il problema anche della delinquenza, il problema della criminalità, lo si affronta non solo da un punto di vista repressivo, ma soprattutto da un punto di vista di prevenzione e di allargamento dei diritti e soprattutto delle responsabilità connesse e soprattutto con uno stato sociale, vuol dire potersi curare, avere una casa, avere un lavoro, avere un salario dignitoso, avere appunto delle scuole, avere dei parchi, avere la possibilità di vivere senza essere sempre sotto inondazioni, buffere, fiumi che esondano, oppure incendi d'estate, cioè quando ci saranno dei governi autenticamente riformisti? Mai! Non solo, ripeto, fare incapacità, ma che i governi ormai sono al servizio dei poteri, dei poteri più forti, uno, e poi sono al servizio di categorie sociali, di lobby, sono al servizio di interessi particolari, dunque si varano delle finanziarie ma senza un'idea di paese, senza un'idea di sviluppo, senza un'idea appunto di crescita economica che tenga conto, non so, dell'ambiente, dei diritti delle persone, no! E ormai ovviamente un'italietta, sono manovre economiche di una bassezza, di fatto austerità, stiamo veramente uccidendo il sistema economico italiano, prestiti per i giovani sono pochissimi, qualcosa arriva dall'Unione Europea, cioè siamo in situazioni veramente di asfissia, di austerità e allora di fronte tutto ciò, si parla dell'Albania, si parla della sicurezza, si parla dell'invasione islamica, si parla di utero in affitto, si parla di tutt'altro, va bene, che non dei problemi reali e materiali concreti delle persone che vivono in città sempre più inquinate, l'aria respirabile, sempre più insicuro, sempre con più marginalità, sempre con più disoccupazione, non si parla di questo, non si parla, si parla dei centri di attenzione dell'Albania per mostrare dei muscoli, noi pensiamo a voi cari italiani, non facciamo entrare questi appunto immigrati e li portiamo in Albania, in realtà un governo dei flussi migratori porterebbe energia all'Italia, un paese appunto vecchio, con tassi di natalità veramente che produrranno, se non c'è un paese di tendenza proprio a fine dell'italiano, nel senso che non facciamo figli, a quel punto lì saranno politiche migratorie, dentro il nostro sociale, dentro delle responsabilità, dentro un piano industriale, un piano industriale a 360 gradi, poi un piano scolastico, un piano della formazione, un piano energetico, non c'è nulla di tutto ciò in questo governo, in questa manovra economica del 2024 per il 2025, così come non c'era nel 2023 per il 2024, così come non c'era anche nei governi precedenti, è chiaro, sono pochi i governi che hanno avuto qualche slancio riformista, che hanno aumentato veramente il reddito poi delle famiglie e dei lavoratori per poter anche far crescere l'economia, non c'è, allora ecco che di fronte alla miseria di questa finanziaria, io ce lo so alcune cose, ripeto l'Italia ha grande debito pubblico, allora serve solo una cosa, serve una tassazione progressiva che sia sempre più grande nei confronti dei grandi patrimoni, non vuoi fare questo, tartasserai il pensionato, ripeto la piccola partita IVA, l'operaio, l'impiegato, ci sono i tartassati, recuperando un grandissimo e comico, cissimo film con Tottore Aldo Fabrizi, i tartassati, sono sempre la stessa parte d'Italia o addirittura però i tartassati sono quelli che smantellando lo stato sociale non potranno più godere di diritti mini, io vi dico sempre, apriamo gli occhi, cerchiamo di capire, perché tutto ciò è veramente dannoso per le persone che hanno di meno, che hanno bisogno di uno Stato che abbia una visione economica, una visione di diritti, una visione di produttività, ma una visione di società più giusta, qui invece stiamo reiterando, sta ingiusta, ma questi governi sono governi contro il lavoro, anche se vi dicono, no abbiamo il cuneo fiscale, questi sono tutti governi contro il lavoro, spremono il lavoro quando non serve più, lo buttano appunto nel cestino e lo spremono sempre con bassi salari, non c'è nulla veramente in questa finanziaria che faccia dire che il 2025 sarà un anno di ripresa, di crescita, di stabilizzazione dei contratti, di crescita dell'istruzione, di crescita appunto del modello sanitario, no, è una manovra che accompagna un lento, ma sembra inesorabile, declino.